Buonasera a tutti, innanzitutto un ringraziamento veramente sincero e sentito a tutti voi che siete rimasti qui anche nell'ultimo giorno e quindi mi fa piacere anzi che quindi abbiate più spazio magari di altre testate importanti che se ne sono andate. Detto questo, prima di cominciare, noi abbiamo preparato una bella maglietta, chiederei al nostro presidente Edoardo De Laurentiis di venire a consegnarla direttamente a Elmas. Maglietta di benvenuto, eccola qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Forza e coraggio. Innanzitutto benvenuto, la prima domanda che voglio farti è, magari ci racconti le prime impressioni che hai avuto dopo il tuo arrivo qui in ritiro, come ti sei trovato con i compagni di squadra con il mister e poi la seconda, se hai avuto... una alla volta, allora la prima. Grazie. 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 Grazie di essere venuto qua. Si è trovato molto bene con tutti i suoi compagni, si sente già in famiglia perché c'è questa area di famiglia nella squadra di Napoli. La seconda, se hai avuto modo di parlare con Goran Pandev, che è un altro calciatore Macedone che ha indossato la maglia del Napoli, magari ti ha spiegato che cosa significa indossare questa maglia. D'acquesta. D'acquesta, mi ha detto con un altro calciatore, ma anche in la squadra? Sì, sì. Sono parlato con Goran Pandeva e mi ha detto che il Napoli è un calciatore e questo è un calciatore per me e è molto difficile da si tr imprimano forte fani e devo Deve molto apprezzare la maglia di Napoli, lo sa, è consapevole della forza di Napoli, della stessa squadra, devi apprezzare che è qua, devi apprezzare l'appoggio dei suoi colleghi, è una squadra proprio per lui. Prego. Ti vuole una. Innanzitutto benvenuto Elif, hai scritto un bellissimo messaggio su Instagram, che effetto fa essere allenati da un mister come Carlo Ancelotti? Per lui è un sogno, per lui è un dream. Di stare accanto al signor Ancelotti per poter acquistare tutto quello che il signor Ancelotti può dare a lui. Seconda ed ultima, ti abbiamo visto parlare con Ancelotti, quali le prime indicazioni tattiche? Poi, dobbiamo parlare con Ancelotti, quali le prime indicazioni tattiche? Non vorrebbe subito aprirsi, queste sono le cose intere tra lui e il signor Ancelotti, sono passati due giorni, perciò si va avanti e ovviamente si lavora sul punto di forza della tattica. Posso aggiungere io una cosa che magari vi può interessare, i dati fisici di questo ragazzo sono stati definiti straordinari. Corriere della sera. Volevo, rimango, resto su Ancelotti, se lo hai sentito durante la trattativa e se una sua telefonata è stata importante per convincerti ad accettare il Napoli. Sì, come ti sono? Sì, è stato un'azardata che è stato fatto per la trattare della trattata. Sì, è stato un'azardata che non è stato fatto. Cosa provi a giocare in un campionato? Dove l'avversario diretto del Napoli è Cristiano Ronaldo, è il giocatore più forte al mondo e tu ti ritrovi in una squadra dove ci sono tantissimi campioni e comunque ti devi mettere alla pari di loro per sfidare questa grande potenza che è la Juventus di Cristiano Ronaldo. Grazie a tutti. Il nome Ronaldo nel mondo di calcio ovviamente ha un peso, ma per lui non ha nessuna barriera. Te le ha. Ti volevo chiedere, tu sei molto giovane ma hai giocato già abbastanza sia nel campionato turco che con la tua nazionale. Qual è il ruolo dove hai giocato il maggior numero di partite, il tuo ruolo preferito? Grazie a tutti. 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 Quale è stato sicuramente il suo punto di riferimento come calciatore? A chi è il suo idolo? Il suo idolo è Ronaldinho. Ronaldinho. Non vuole dirlo? Ronaldo. No, Ronaldinho. Ciao. Volevo farti due domande in ordine. La prima è un po' imparare a conoscerti anche fuori dal campo. Quali sono i tuoi hobby? Cosa ti piace fare? Se sei giovanissimo e molto sorridente. Vai. Il tuo hobby. Che ti piace? Che ti piace? Che ti piace? Che ti piace? Molto. Poi. Scusami. 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 Non c'è problema. Anglici. È il mio hobby. È il mio hobby. È il basket. È il tennis. È il tennis. È il tennis. Scusami. È il primo sport. È il sport. Scusami. Mi piace tanto ascoltare la musica. Nel suo tempo libero fa gli altri sport. Tipo nuoto, basket. Non ama passeggiare. la seconda invece ieri sera avuto modo di conoscere il pubblico attraverso la presentazione posso avere una prima impressione sui tifosi, sul calore di questa città Sì, ha sentito ha sentito il calore, ha sentito l'amore, i tifosi danno per la squadra Napoli adesso lui è quello che devi uscire sul terreno e ringraziare tutti i tifosi con il patti Grazie a tutti Grazie, buonasera Grazie Ragazzi, grazie a tutti e ci ritroviamo